Oh ragazzi, allora, siamo qua al parco con i ragazzi degli overbar c'è una fantastica vista a mare, ma adesso stiamo concentrati sulle sbarre allora, oggi con Pierre e poi dopo anche con i due brothers qua che sono due veri propri combatori vediamo una routine una routine per perché? per migliorare le prestazioni, per tirare su il livello di base nelle trazioni prone alla sbarra Pierre, com'è questa routine per... allora, andiamo a fare un esercizio incentrato naturalmente come diceva prima Claudio sui pull up in cui andremo a fare a scala quindi da 1 a 5 dei pull up con annessa hold in cima ovvero un pull up, un secondo di hold distendere completamente due pull up, due secondi di hold e così via fino a 5 ok, vediamola direttamente così mentre la fa ce la spiega vediamo se riesce anche a parlare mentre fa gli esercizi vuol dire che è veramente torsio sempre partenza in the dang 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 3 4 1 2 3 4 giù 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15